Palazzo Mercantile a Bolzano è stata la suggestiva atmosfera della Sala d'Onore ad ospitare l'edizione 2020 e 2021 del premio Economia Alto Adige della Camera di Commercio di Bolzano. Premiate le 29 aziende altoatesine con più di 50 anni di attività e anche le collaboratrici e collaboratori fedeli con più di 36 anni di servizio nello stesso settore. Quest'anno per la prima volta rientrano nel novero dei possibili premiati anche le aziende che sono state oggetto di successione d'impresa a terzi. Abbiamo cominciato quando erano ancora ragazzi invece che mandarli a passeggio tutto durante l'estate, le vacanze eccetera, venivano i negozi con me e da lì piano piano sono abituati, finiti gli studi, hanno proseguito, sono appassionati e sono sempre qua. E così siamo andati avanti tutti assieme e andremo avanti ancora, finché duro. Tanto hanno detto che fra altri dieci anni danno la medaglia di platino, allora io spero di arrivare a prenderla. Oltre alle aziende sono stati premiati anche i 68 dipendenti in servizio presso la stessa azienda per più di 36 anni. Tutto ciò che ho imparato, in questo momento a dire la verità, ho appena finito e concluso la mia età lavorativa, sono in pensione da due mesi. Ciò che mi ha sempre interessato sono state un po' le sfide che via via ho avuto modo di affrontare. Sono stata sempre una contabile, quindi i numeri, il risultato alla fine di ogni anno e anche un po' la capabilità di cercare sempre di imparare qualcosa di nuovo. E' stato ricordato che con la loro lunga tradizione le imprese premiate costituiscono un pilastro portante dell'economia altoatesina.